I tempi d'attesa al ristorante saranno più piacevoli grazie a questo piccolo essere indaffarato proiettato sul tuo tavolo ecco un nuovo passatempo per ingannare l'attesa del pasto utile soprattutto quando non siamo con la compagnia giusta si chiama petit chef un mix di animazione 3d e motion capture che ti porta in tavola appunto un minuscolo chef virtuale tutto indaffarato nei preparativi e che finisce per prepararti lui stesso la cena a idearlo il duo di creativi flip sterke e anton werbeck del gruppo scalmati grazie 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 grazie